ciao a tutti e poi qui ritorniamo questa sera con un nuovo video che si chiama tango strano cocktail che ha creato stefi 1936 all'inizio ripeti questa sua lingua in inglese senza fare errori if you which is the world watch to which 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 world watch which watch se questo è che riguardarsi due orologi con l'essere che guardarebbe con l'orologio con l'orologio se ci sei riuscito aggiungo latte e succo di frutta se non ci sei riuscita aggiungo l'aceto olio in ci sono riuscita quindi ho messo già gli succo di frutta poi se vuoi mettere come copertina di questo vino per se lo giudico la tua scelta ad esempio mudix barbara dos eccetera se lo fai aggiungire il cioccolato zucchero se non lo fai aggiungire sale è un cucchiaino di pepe ovviamente l'ho già fatto quindi vengono del cioccolato molto chino questo so che verrà una merda però ovviamente ok lo vedete ciao poi ci devo avere il cioccolato dove vuoi tu ah dove vuoi il leccano vabbè facciamo così va perché mi sono dimenticata di portare cioè percanto non c'è l'ho il cioccolato c'ho questo cioccolato quindi farlo così se non lo fai giuro aspetta tu scelta te la pulì che non gli ho sto bello proprio se non lo fai del miele di qua ovviamente ho già il miele metto ok ehm quattro infilati dei calzini nelle orecchie mi dà un cane qua ci sono i calzini mi aggiungo i calzini vediamo se mi ci stanno nell'orecchio uno e mi chiede che non ci stanno no ci stanno uno sì a volte la verità per lì davanti e due ok poi se lo fai aggiungi del ghiaccio acqua acqua se non lo fai aggiungi del vino qualcosa di alcolico che ho scelto non dico veramente che merda che sta venendo poi gettati un cucchiaio di farina in testa canta una canzone aggiungi un dado se ne lo fai aggiungi una spicchio d'aglio io ho preso io la spicchio d'aglio non c'era in casa quindi ho preso del come si chiama del sale quindi qua c'è il sale ok messo poi racconta un praticismo assurdo inventalo e si è più incredibile possibile oma a me piace mettere molto i piedi è veramente cosa che mi piace molto se lo fai aggiungi del sale se non lo fai mescolare aggiungi non lo fai aggiungi proprio divenne una merda sicuramente se ci metto lo fai aggiungi del sale cosa viene quindi mettiamo il cissolo anzi facciamo così se lo rimetto lo metto tutto ok questa penna qua è scarica e l'ho lavata prima quindi userò questo per melcolarlo sa ancora di ananas però non so quanto potrà sapere di ananas dire che sta vedendo un colore assurdo dire poco cioè guardate povera penna assaggio di cosa sa di non sapere stano cioè vabbè si sapeva che era un sapore strano però di credo di peli bustolenti sta proprio schifo poi ha questo questo aspetto quindi non ci siamo capiti niente questo era il tag da strano da cocktail taggo do il make up do il make up 21 e e basta se vi vengono un altro vi ricomando fatelo se avete il coraggio un bacio ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti